Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il nord Italia verrà interessato dalla parte più avanzata di una corposa perturbazione dal nord Europa. Come conseguenza al sud si attiverà una circolazione meridionale che richiamerà aria più calda dalle coste africane. Pertanto sulle nostre regioni il tempo rimarrà stabile e le temperature permetteranno di trascorrere una giornata più calda e piacevole. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 15 settembre. Solleggiato per gran parte della giornata su entrambe le regioni. Nel pomeriggio possibili velature sul nord di entrambe le regioni ma senza alcun rischio di precipitazioni. Più umido e cieli sereni quasi ovunque in serata. Temperature in leggero aumento sia nei valori massimi che minimi. Più caldo nelle ore centrali con punte che occasionalmente supereranno i 30 gradi su Foggiano, Materano e Tarantino. Venti che soffieranno dai quadranti meridionali intensificandosi dal pomeriggio sulla Puglia meridionale. Mari mosso lo Ionio, poco mosso l'Adriatico. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Domenico Piemontese per questa incantevole luna ripresa da Monte Sant'Angelo che si rispecchia in mare e illumina tutto il golfo di Manfredonia. Se volete inviare la vostra foto del giorno contattateci al numero Whatsapp e all'email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.